Hanno bloccato il cancello di accesso degli uffici amministrativi della ASL Bari nel Vittorio Emanuele di Giovinazzo. Si tratta di una rappresentanza dei 56 assunti dalla stessa ASL che dopo un corso di formazione e un tirocinio avevano trovato modo di impiegare le loro stesse vite in un lavoro onesto. Provenienti da problemi di alcol, di droga, difficoltà finanziarie, questi 56 assunti operanti in molti presidi dell'intera provincia avevano mansione di ausiliario. A causa di problemi burocratici la loro assunzione è stata sospesa. Ora rischiano il posto in attesa che la stessa ASL provveda a trovare loro una nuova sistemazione. Ascoltiamo cosa hanno dichiarato ai nostri microfoni. Dopo mesi di lavoro vi hanno mandato a casa. Cosa chiedete oggi e cosa sperate di ottenere dall'ASL? Più che sperare di ottenere riteniamo che abbiamo diritto di ottenere alcune cose. Qui si tratta di un gruppo grosso di 80 persone che poi si riduce in chi deve finire di fare il tirocinio e chi ancora non ha finito tutto l'escurso. Noi abbiamo cominciato e ci era stato detto che era tutto regolare. Abbiamo fatto due anni di tirocinio e poi siamo entrati a tempo indeterminato. Come era previsto dal progetto iniziale con il quale abbiamo cominciato. Questo progetto per questioni di vizi burocratici è stato cancellato. Insieme a lui per la legge si cancellano anche i nostri contratti di lavoro. Quindi noi di punto in bianco siamo rimasti praticamente licenziati dopo non aver fatto nessunissima cosa. Non essere assolutamente inadempienti nei confronti di quel contratto con l'ASL. Noi capiamo benissimo che l'ASL ha bisogno di aggiustare queste cose fuori posto. Infatti i tre direttori dell'ASL motu proprio hanno deciso questa cosa. Non è stata redatta da questo o da quello. Noi capiamo e conveniamo che la cosa andava aggiustata. Però hanno saltato tutti i passi che dovevano in un certo senso salvaguardare il nostro posto di lavoro. Per lo meno per quei 40 o 20 che sono tutto a posto. Cioè hanno le carte a posto, abbiamo l'invalidità, abbiamo le iscrizioni di protette, abbiamo fatto il tirocinio. E venavamo da situazioni finanziarie pesanti. Molti di voi hanno problemi con le famiglie adesso perché non hanno un sostentamento? Certamente perché adesso si passa dall'avere lo stipendio a non avere più assolutamente niente. Quindi c'è oltretutto dopo quattro mesi c'è chi aveva contratto dei prestiti con la banca, dei mutui, delle cose. Adesso siamo in mezzo a una strada. Ci sono affitti da pagare, correnti. Aspettiamo che loro fanno... Non accelerano neanche le procedure. Le stanno facendo con la flemma e la tranquillità di chi non ha il problema di alcune persone che stanno in mezzo alla strada. Stanno pensando esclusivamente alle loro tasche e ai loro problemi. Io ripeto, capiamo i loro problemi. Però devono fare a perlomeno accelerare le procedure di reinserimento. Perché hanno detto che ci reinseriscono. Ma qui stamattina veniamo sul posto di lavoro nostro, troviamo personale di una ditta esterna a lavorare. Come i soldi per pagare il personale di una ditta esterna ci sono. E invece di trovare una soluzione con noi, che abbiamo diritto pieno, mettete la persona esterna. Nel frattempo i servizi che erano garantiti da questi 56 assunti sono stati affidati ad una ditta esterna che ha stipulato un contratto della durata di due settimane. Si attende quindi di sapere se la ASL riuscirà a riportare a lavoro queste 56 persone. Il pericolo è che molti di loro possano ritornare a cadere nel tunnel da cui erano riusciti a venire fuori. Grazie. 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 Grazie.